Ciao a tutti, bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu, Sergio San Ruggeri, allora location inedita, questa è la mia cucina, tra l'altro tutta disordinata perché non c'è voglia neanche di sistemare, la pigrizia in queste giornate fa parte di me, nel senso che meno hai da fare e più non fai un cavolo. Ho scelto questa location perché non mi sembrava il caso di utilizzare comunque il mio piccolo Inter Club che ho a casa, perché è la sede di un Inter Club, non perché io non ami l'Inter, lo sapete tutti quanto amo i nostri colori, però comunque proprio per trasmettervi questo clima veramente surreale e questo stato d'animo un po' particolare, per il semplice fatto che sono praticamente in quarantena a casa, ma hanno fermato il lavoro, come spero che lo fermino a livello definitivo in tutta Italia, per il semplice fatto che comunque ormai il problema è grave, l'abbiamo sottovalutato tutti e come se ne esce? Se ne esce stando a casa ragazzi, state a casa, poi a me tra l'altro in genere piace da matti stare a casa perché è il mio habitat naturale, qua mi rilasso, qua mi svago, qua mi dedico a quello che mi fa star bene, però comunque diciamo che stare a casa in un clima così forzato è veramente surreale e la pigrizia mi attanaglia nel semplice fatto che comunque guardo film, gioco coi giochini, come si diceva una volta, faccio tutto, non faccio tanti video per il semplice fatto che da una parte parlare di calcio è comunque un'opportunità di distogliersi, è un'opportunità di intrattenimento, però comunque diciamo che insomma parliamo parlare di calcio adesso è parlare del nulla, a me piace da matti parlare con voi quindi farò comunque live, farò comunque video in questi giorni, video un po' diversi dal solito per il semplice fatto che parleremo un po' di tutto e quando parleremo di calcio lo faremo per cercare un attimino di tenerci compagnia, ecco diciamola tutta. Io l'altro giorno ho provato a fare una live e sono stato criticatissimo, ho perso anche degli iscritti perché non si può parlare di calcio in una situazione simile, avere a metà questa cosa per il semplice fatto che bisogna fare quello che più ci fa sentir bene, fare le live per me sono comunque un'opportunità per parlare con voi, mi piace molto e quindi ogni volta che faccio una live siete voi che decidete gli argomenti, tanti non lo comprendono però comunque questo è alla fine, io farò delle live in questi giorni, farò comunque dei video, parleremo un po' di tutto, nelle live vi darò tanto spazio, più del solito perché l'ho sempre fatto ma in maniera particolare, perché comunque tanta gente è a casa come me quindi abbiamo tutto il tempo di parlare di tutti gli argomenti che ci fanno sentire bene, ecco questa è la cosa principale. Venendo all'attualità, l'attualità comunque ha visto una grandissima Atalanta ieri alla quale faccio i complimenti, la città di Bergamo città colpita da matti, forse anche più di Milano in proporzione, però comunque almeno per una notte si sono un attimino distolti da quello che sta succedendo, dalla realtà che vivono, quindi contento per l'Atalanta e i bergamaschi e l'Atalanta ha fatto vedere comunque un grandissimo calcio, ecco in un ambiente surreale, anche lì abbiamo parlato di restrizioni, siamo stati criticati da tutta Europa come al solito, abbiamo definito ma anch'io l'Italia sempre disorganizzata e gli italiani comunque teste dure che non accettano le regole, però vedo che dalle altre parti d'Europa avviengono le stesse cose e soprattutto commettono gli stessi errori che abbiamo commesso noi, per il semplice fatto che ieri fuori dallo stadio di Valencia c'erano almeno 5-6 mila persone ammassate fuori per far sentire la loro presenza ai giocatori, quindi diciamo che gli errori li commettiamo tutti. Comunque complimenti all'Atalanta, anche se l'allenatore non lo posso vedere perché è la verità, però diciamo che giù il cappello, poi parleremo anche di calcio facendo un paragone tra quello che è il modo di pensare al calcio di Gasperini e il modo di pensare al calcio di Conte, però sono argomenti che svilupperemo non in questo video ma magari nella live di oggi piuttosto che nei video dei prossimi giorni dove vi darò veramente tanto spazio. Ecco, veniamo un attimino alle notizie di oggi e giovedì, quindi domani, ci doveva essere Inter Getafe. Il presidente del Getafe si rifiuta di venire qua a Milano, quindi a quel punto lì gli scenari sono due. O di vincere a tavolino da parte nostra, perché non potendo venire qua chiaramente l'Inter vincerebbe a tavolino, ma non sarebbe bello passare ai quarti e non sarebbe neanche giusto. Io penso che l'Uefa debba assolutamente fermare tutto, bisogna fermare tutto, anche perché comunque, allora, se non lo fermano questa settimana, lo fermano tra due settimane, quindi a quel punto lì conviene assolutamente fermarlo il prima possibile, perché è un po' quello che è successo qua, parliamoci chiaro. Noi dovevamo fermarlo due settimane fa e l'abbiamo fermato con due settimane di ritardo. Ecco, io mi auguro che l'organismo internazionale capisca che se è arrivato il momento di fermare il calcio, anche perché ci sono cose più importanti del calcio, la salute viene prima di tutto, in ogni caso bisognerebbe fermarlo, quindi fermatelo subito, fermatelo subito e chi ha tempo non aspetti tempo, diceva la mia nonna. Fermatelo anche perché non ha senso. Vedete che la Roma non può andare a Seviglia, perché domani avrebbe dovuto giocare a Seviglia, perché non ci sono voli, avrebbe dovuto andare in pullman, quindi situazioni veramente surreali. A quel punto lì non ha senso andare avanti. Il presidente del Getafe, che si può criticare o meno per la durezza delle proprie affermazioni, anche per il semplice fatto che, parliamoci chiaro, la sua città, quindi Madrid, è una città che ha tanti casi, quasi quanto il Milano, quindi non è che Milano è l'unico focolaio, però comunque a prescindere da questo, va fermato il calcio, fa bene non venire qui e devono assolutamente stoppare tutto, non ha neanche senso che, per esempio, io parlo dell'Inter, che è la mia squadra, si alleni senza sapere se si giochi o meno, è tutto ridicolo, dai, cioè è tutto fuori luogo, più che ridicolo è tutto fuori luogo, quindi fermate e non aspettate che la situazione evolga. Quello che poi è successo qua in Italia, né più né meno. Perché? Perché comunque vediamo che ci sono i primi casi in Germania, poi i primi casi, anche qua la comunicazione è spaccata, c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, però comunque anche in Germania hanno trovato un giocatore positivo addirittura, notizia di un'ora fa, quindi stoppate tutti i campionati. L'Arsenal in Inghilterra è messo in quarantena addirittura, quindi che senso ha fare le coppe? Guardiamoci le partite di stasera in Champions, pensando che comunque siano le ultime partite prima della sospensione totale, sospensione che deve arrivare il prima possibile. Facciamoci la nostra quarantena, ma non solo qua in Italia, in tutta Europa, in tutte le parti del mondo coinvolte, perché questa è l'unica maniera per uscirne. Vedete che in Cina, oggi o ieri sera, hanno dato l'annuncio che hanno dimesso l'ultimo paziente. E come hanno fatto? Hanno fatto, perché l'unico modo è quello di isolare, ok? Di isolare e chiudere. Ecco, facendo così, in un mese e mezzo, hanno praticamente risolto il 90% del problema e stanno ritornando alla normalità. Dobbiamo farlo anche noi e lo devono fare tutti in Europa, tutti quanti. Bisogna anche usare un po' di intelligenza, no? Perché si punta sempre contro l'Italia, si spunta sempre contro gli italiani, però vedete che i deficienti ci sono ovunque, i matti esistono ovunque. Vedete che gli stessi errori che abbiamo fatto noi li stanno facendo dalle altre parti d'Europa. Quindi stoppiamo tutti, facciamo le persone coscienziose, rimaniamo a casa, usciamo solo ed esclusivamente per motivi gravi e evitiamo di contagiare le altre persone. Questo è l'unico modo di uscire. Poi, in ogni caso, il calcio deve assolutamente essere fermato, ma perché è assurdo andare avanti così, perché il calcio non è tutto, ragazzi. Il calcio non è tutto. Il mondo del calcio è fatto da esseri umani, quindi va fermato. E diciamo che il calcio si deve arrendere. Il calcio si deve arrendere, si deve arrendere per 40 giorni, un mese e mezzo, e poi vediamo. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento alla live che la farò nel pomeriggio in prima serata, adesso vediamo quando riesco a farla, dove parleremo di quello che volete voi. Quindi il Bausha vi saluta, vi do un grosso bacione, mi raccomando, state in casa. Ci vediamo dopo, un salutone.